Ha preso il via stamattina con presidi in tutta Italia la campagna di rifondazione comunista per dire no alle politiche del governo Draghi in difesa dell'occupazione, dei salari, dei redditi e per la ricostruzione del pubblico. In piazza Duomo a Milano un flash mob contro il recovery plan che dicono i manifestanti prevede molti miliardi a sostegno delle imprese e della competitività ma nessun intervento diretto su disoccupazione e protezioni sociali.